Si avvia verso la soluzione la controversia che vede il Comune, l'assessore allo sport Giorgio Rossi da una parte e la tifoseria della Triestina dall'altra in merito ai colori delle nuove poltroncine dello Stadio Rocco. Da Palazzo Sipario trapela un'indiscrezione. Entro pochi giorni, l'assessore Rossi lo conferma al telefono, una conferenza stampa sancirà la pace raggiunta fra le due parti sulla base di una sorta di compromesso che, Rossi non dice di più, accontenterà i tifosi. Ci siamo trovati con l'assessore giovedì scorso e ci ha mostrato un'altra possibilità che a noi è piaciuta tanto. Noi abbiamo scelto questa soluzione che porta i nostri colori. Speriamo che ci accontentino, che l'assessore ci accontenti, ma l'ho visto molto disponibile e quindi sono sicuro che riusciremo a ottenere quello che i tifosi speravano. Dunque par di capire in un modo o nell'altro il colore rosso labbardato sarà quello dominante ed è un dato sul quale i tifosi della Triestina, per tutta una serie di ragioni, non sembrano disposti a transigere. E la loro presa di posizione contro tribune, gradinate, curve, arcobaleno, che nei giorni scorsi aveva fatto storcere il naso a più d'uno, poggia su ragioni abbastanza solide. I colori sono fondamentali, bisogna pensare anche alla Triestina nata nel 1918, quindi ha accompagnato tutta la storia della città in questi cent'anni, porta il simbolo della città, le maglie rosse con la labarda, il simbolo di Trieste. Quindi noi che amiamo Trieste, amiamo la Triestina, ci piace che questi colori vengano sempre tenuti allo stadio. Poi oltretutto abbiamo lottato in questi anni con tanti presidenti che non si trova l'epito giusto per classificarli. Abbiamo anche acquistato il marchio del curatore fallimentare, il marchio porta i colori rossi con la labarda e quindi per noi è una cosa di cuore proprio. Ma quando si parla con i tifosi dell'Unione non si può non chiedere loro un'opinione sulla squadra, anche alla luce dell'ufficializzazione del nuovo allenatore Massimo Pavanel. La società è solida, ben organizzata, sta lavorando bene, ha scelto un allenatore che alla tifoseria è molto gradito per il suo passato alla Triestina, ma anche per il suo recente presente con la salvezza dell'Arezzo. Quindi noi siamo fiduciosi e come dice sempre Biasin, pian pianin raggiungeremo i nostri obiettivi.